Musica Dal 17 giugno al 1 luglio i ragazzi di Portland, città degli Stati Uniti, gemellata con Bologna dal 2004, sono stati ospiti presso alcune famiglie di studenti italiani. Lo scambio è stato curato dal settore Servizi per i Giovani, Scambi e Soggiorni all'Estero del Comune di Bologna, in copregettazione con l'associazione Yoda. My name is Jenna Mitchum, and my first impression of the city was how amazing the churches were. You walked in and it was just incredible, like unlike anything I've ever seen. My name is Lucinda Drake, and my first impression of Bologna was how beautiful all of the average things just around the city are. So like even the pavement, even the streets are so beautiful, and the buildings are just like incredible. Like whenever you go anywhere, it's like being in a story or a book or a movie. My name is Aidan, and this is my first time in Italy, and I really like it, yeah. I am very much enjoying my stay in Bologna, I'm having a great time, you know, it's just a very beautiful city. Sono Luca, sono andato a Bologna, l'anno scorso sono stato in America, è stata un'esperienza veramente irrepetibile, mi è piaciuta davvero tantissimo anche perché era la prima volta che sono stato in America. Mi sono trovato veramente bene anche con la famiglia che mi ha ospitato, sono stati tutti stra gentili. Un'esperienza che rifarai sicuramente e consiglierei anche a tutti i miei amici e a tutti quanti. Anche di crescita personale, penso che sia proprio un'esperienza che ti cambi e una volta uscita da questa esperienza appunto sei una persona diversa, migliorata. My name is Noah, I'm from Portland. The experience when Luca came to Portland was really interesting because it was different having someone from a different culture come into our house and live with us. Living with Luca has really helped me like connect with his family and it gives me a different perspective. L'ultima serata, prima della partenza, ragazzi, famiglie e accompagnatori si sono incontrati per una cena alle serre dei Giardini Margherita. Questa esperienza con il comune di Bologna, di questo scambio, è stata molto interessante e ci ha dato l'opportunità di conoscere nuove culture. Una cultura, quella americana, che penso sia il sogno di tutti, andare in America, vedere come funziona l'America. E devo dire che sono stato molto soddisfatto di questa cosa. Ho conosciuto nuovi amici, nuove persone, sia italiane che americane. Spero di rifarlo, lo consiglio a tutti. E niente, e ho incrementato molto il mio inglese. Ok, per me personally the exchange has been an amazing experience because I have been able to be immersed in an entirely different culture. I think that being part of the exchange has made me a lot more open to the world, considering I've never been outside the United States before. So this has been really eye-opening and just being able to travel, I really want to travel more. I want to come back here, I want to be able to go to other places in the world. Ok, so this exchange has been a wonderful experience, like everyone has said, because I've been able to travel with my parents previously before this. However, I've never gained this level of independence in a foreign country before. And so it's been really nice to experience, like new things and a new culture by myself without the help of my parents. And so my exchange, my host Giulia was just fantastic, I love spending time with her and meeting her friends and just kind of like embracing her lifestyle. It was something that I really valued and something that I will never forget. Ok, 3, 2, 1... STAY BALLING! 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 STAY BALLING!